L'arroganza e la violenza non spengono la testimonianza dei cristiani. L'ho detto il Papa, l'Angelus, a proposito della persecuzione, un fenomeno presente ancora oggi. Quanti cristiani sono perseguitati anche oggi in tutto il mondo, soffrono per il Vangelo con amore, sono i martiri dei nostri giorni. E possiamo dire con sicurezza che sono più dei martiri dei primi tempi, tanti martiri soltanto per essere cristiani. A tutti questi discepoli, ha ricordato Francesco, Gesù raccomanda di non avere paura. Non bisogna lasciarsi spaventare da quanti cercano di spegnere la forza evangelitatrice con l'arroganza e la violenza. Nulla, infatti, essi possono contro l'anima, cioè contro la comunione con Dio. Questa nessuno può toglierla ai discepoli, perché è un dono di Dio. La paura, aggiunto, è uno dei nemici più brutti della nostra vita cristiana. La sola paura che il discepolo deve avere è quella di perdere questo dono divino, la vicinanza, l'amicizia con Dio, rinunciando a vivere secondo il Vangelo e procurandosi così la morte morale, che è l'effetto del peccato. Francesco, quindi, ha esortato i fedeli a non cedere mai allo sconforto, affidandosi sempre a Dio e alla sua grazia, che è più potente del male. Ciò che importa è la franchezza, il coraggio della testimonianza, della testimonianza di fede, riconoscere Gesù davanti agli uomini e andare avanti facendo del bene. Grazie a tutti.